Siamo Giorgio Silvestrin, capitano dell'Italian Poker Team di Las Vegas dell'anno 2017-2018. La mia esperienza a Vegas come sempre è stata molto positiva dal punto di vista ambientale, se non ci fossero stati i dadi sarebbe stata ancora più bella però pokeristicamente parlando devo dire che è andata abbastanza bene. I miei propositi per il prossimo anno sono ovviamente ripetere se è possibile la stagione dell'anno scorso quindi ottenere nuovamente la fascia di capitano dell'Italian Poker Team.